Attenzione, c'è qualcuno che sta lanciando delle bottiglie contro le macchine di passaggio in Viale Verona. E l'allarme è lanciato al 113 da alcuni automobilisti di Vicenza. Sul posto si precipitano le volanti che intercettano un 26enne egiziano. In mano a un collo di bottiglie in franta, un coccio di vetro tagliente che può essere molto pericoloso. Mentre gli agenti sono impegnati con lo straniero, alcuni passanti segnalano che proprio in quel momento un incendio sta divampando all'interno del vicino distributore di benzina. Sul posto arriva un altro equipaggio della polizia che blocca il traffico, isola l'area di servizio e chiama i vigili del fuoco che domano le fiamme. Le immagini di videosorveglianza permettono di ricostruire la situazione. Emergono riscontri evidenti sul fatto che l'egiziano, utilizzando un materassino di gomma piuma, sarebbe riuscito ad appiccare l'incendio all'altezza delle pompe del carburante per poi allontanarsi a piedi. Durante il controllo gli è stato trovato addosso un accendino, arrestato e stato portato in carcere al San Pio X di Vicenza. Intanto continuano le indagini sui roghi divampati in diverse zone della città. Nel mirino dei piromani alcuni cassonetti per la raccolta della carta, della plastica e del vetro. Gli ultimi incendi sono stati appiccati in Via Genova, nella zona del Mercato Nuovo e in Viale San Lazzaro. Gli investigatori hanno raccolto più elementi possibile per cercare di individuare i responsabili. Si indaga anche sul 26enne egiziano accusato di aver appiccato il fuoco nel distributore di Viale San Lazzaro, ma al momento non ci sono elementi per confermare un suo possibile coinvolgimento. Continuano le indagini anche sugli episodi avvenuti tra venerdì e sabato notte in zona Ferrovieri, sotto il cavalcavia Ferretto De Ferretti e in un cassonetto in Via Faccio. Ora toccherà agli investigatori, in base anche agli elementi raccolti, chiudere il cerchio.